Sembra ormai ad una svolta la trattativa per la cessione del Taranto Football Club, ma manca ancora l'ufficialità che potrebbe arrivare a breve. Intanto sono ore di attesa e di incontri in città. Nella serata di giovedì 17 ottobre, Mark Campbell, rappresentante dell'Apex Capital Global, ha incontrato a cena il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il vice sindaco Gianni Azzaro. Alla serata erano presenti anche Michele Pelillo, Giuseppe Losavio, consulente del Taranto Football Club e un consulente del gruppo Compratore. Si attendono novità per le prossime ore che potrebbero segnare un passo decisivo nella trattativa per il futuro del club. Al termine della cena, intorno a mezzanotte, bocche quasi cucite e un po' di imbarazzo mascherato da sorrisi. Melucci e Azzaro non si sono sbottonati lasciandosi andare a non ci vediamo domani. Un pochino più loquace, Campbell siamo felici di essere qui, ha detto ci vedremo nel giro di due mesi, non vediamo l'ora di tornare. In mattinata, Campbell poi si è recato allo stadio Erasmo Iacovone, dove ad attenderlo c'era il presidente di missionario Massimo Giove e il suo entourage. Il potenziale nuovo proprietario del Taranto ha incontrato poi negli spogliatoi la squadra e lo staff tecnico e dirigenziale. Ora non resta che comprendere meglio i dettagli del trasferimento, delle quote e da quando Campbell sarà operativo al 100%. Intanto, dopo domani, la squadra giocherà a Crotone.